La Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura coderale del dirieto di avvicinamento disposta dal giudice delle indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Enna, diretta da Massimo Palmeri. Pochi giorni fa, la squadra mobile di Enna aveva ricevuto notizia che una ragazza da poco 18enne era stata abusata sessualmente all'interno del nosocomio ennese. Gli investigatori ricevuta la notizia di reato avvisavano il sostituto procuratore Stefania Leonte, che trattandosi di Codice Rosso delegava un'immediata verifica dei fatti denunciati. Dal racconto della giovane emergeva un quadro indiziario particolarmente grave e le attività della Polizia di Stato permettevano di trovare elementi e oggettivi commessi dall'ausiliario. Il dipendente a tempo indeterminato dell'aspe di Enna aveva messo in atto una condotta subdola finalizzata ad approfittare sessualmente della degente durante il suo ricovero. La vittima, particolarmente turbata per quanto accaduto, assistita dagli investigatori, era riuscita a raccontare ogni dettaglio di quanto accaduto, soprattutto nella pressione e violenza psicologica subita. Oltre al reato di violenza sessuale, l'ausiliario è indagato per il reato di tentata violenza privata, avendo provato a costringere la ragazza a ritrattare quanto denunciato perché altrimenti lui avrebbe passato dei guai. Anche in questo caso ha utilizzato lo stesso merito, la violenza psicologica. Il 31 marzo, non appena ricevuto l'ordine di esecuzione della misura cautelare, gli uomini della squadra mobili si sono arrivati presso l'ospedale di Enna, notificando il provvidimento disposto dal giudice all'indagato che si trovava in quel momento in servizio.